Il Consiglio dei Ministri ha decretato la fine del commissariamento per la sanità in campagna dopo dieci anni per la Regione. È un risultato storico che apre una nuova stagione per il settore. Ringrazio il Governo, il Presidente del Consiglio, i Ministri dell'Economia e della Salute e tutte le centinaia e centinaia di dirigenti medici dipendenti che con il loro impegno hanno consentito di raggiungere questo risultato straordinario. È il commento che il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha affidato ieri sera alla sua pagina Facebook per festeggiare dopo mesi di attesa l'ok del Consiglio dei Ministri all'uscita dal commissariamento della sanità nella Regione Campania. Faremo, ha annunciato De Luca nei prossimi giorni, un'assemblea per ringraziare tutti e per rilanciare nuovi obiettivi di avanzamento nell'organizzazione sanitaria perché ora, fuori dal commissariamento, sulla sanità si rientra nei poteri ordinari. A chiedere subito un incontro con il Presidente della Regione Campania e anche il Segretario Generale della CGL, Nicola Ricci, ritornare ai poteri ordinari, scrive, consentirà di continuare l'azione di risanamento ponendosi nuovi obiettivi. Per questo il rappresentante sindacale regionale della CGL si è augurato che quanto prima il Presidente convochi le organizzazioni sindacali per confrontarsi al meglio sul vigente piano ospedaliero e su quello territoriale. La richiesta di Ricci arriva a pochi giorni dalle tre mobilitazioni nazionali che si terranno il prossimo 10 dicembre a Roma e che metteranno al centro anche la questione mezzogiorno. I cittadini e gli operatori del settore, ha aggiunto Ricci, continuano a pagare un pezzo altissimo sui servizi. Ci si augura dunque che presto si completi il percorso di stabilizzazione del personale, garantendo maggiori livelli essenziali di prestazione, sapendo che i prossimi mesi saranno strategici per la sanità in Campania.